Ricordo tutte le regole e Bing potreste rispiegarle per me? Sì! Bing, sei pronta? Si, balla con la musica! Poi la musica si ferma Ok E ti blocchi come una statua E non devi fare neanche una piccola mossa E perché? Che succede? Siete pronti? Sì! No, 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 aspetta, Flop, non siamo punti Guarda, i nostri amici sono per la maggior parte seduti Ragazzi, cosa state aspettando? Forza! Tutti su in piedi, dovete ballare e scatenarvi insieme a noi No, 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 no No Ecco, ho sbagliato subito, non mi sono fermata No, 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 no Grazie a tutti.